Mi hanno rubato le scarpe. Guarda mi tocca tutta la zozzeria qui. Oddio mi hanno rubato tutte le mie scarpette. Chi te le ha rubate? I ladri. Pieno dei ladri di scarpe qui. Basta lasciarle un momento. Guarda tutta la terra sui piedi. Che schifo. Ho rubato le scarpe. I feticisti te l'hanno rubata. Certo vanno a caccia delle mie scarpe. Me le ero tolte un attimo. Sono stata su una panchina così mi sono tolta le scarpe per prendere un po' di aria. Capito? Per prendere un po' di aria. Ah ma non ce l'avevi ai piedi. No, no, ce l'avevo ai piedi. No, io sono arrivata con le scarpe, mica che stavo senza scarpe, no? Stavo con le scarpe. Sono arrivata con le scarpe. Te sei addormentata, te l'hanno rubata. Sì, sulla panchina ho detto vabbè non mi tolgo pure le scarpe e faccio prendere un po' d'aria ai piedini. Mi sono messa qua rilassata. Poi mi giro, vado a cercare le scarpe e non c'erano più, capito? Guarda che roba, tutta di terra. Non c'erano più. No, e quindi Mamu con che cosa vado a casa? Senza scarpe. Guarda un po' se le trovi. Edo guardo. Guarda un po'. Eh che c'è? Guarda, me le hanno lasciate teneri. Sai che cosa hanno fatto con le mie scarpe? Ma sono quelle? Sì. Sai che cosa hanno fatto con queste scarpette? Se le sono un po' curate, capito? Se le hanno usate. Se le solleccate. Eh sì, hanno fatto un po' le cose che fanno sempre. Meno male. Guarda, guarda un moscerino. Guarda. spettacolo. Guarda che non c'era un po' di vacanza. Sì,ico. Guarda che faccia. Hai ottenuto questa piccola in America. Sono talmente carine queste scarpe che si capisce perché me le hanno leurieme. Ma è strano che te le hanno lasciate, poi. Sì perché sono carine! in fondo le prendono in prestito praticamente sai non è che proprio se le portano a casa sennò la moglie che gli dice dove hai preso tutte le scarpe. Lo rubate è una pornostara. Eh lo so ma loro le hanno prese. Aspetta oh non riesco più a stilarle. Ma non è che so bagnate no? No. E che ho i piedi che insomma eccole le hanno prese e se le sono un po' coccolate queste scarpette no ecco le scarpe della Franca così le hanno prese e se le sono coccolate e se le sono coccolate, cucunculate. se le sono coccolate. le scarpe così belle. Ma quanto tempo fa ti è successo? Eh un'oretta fa. Ah è un'ora che giravi così? Sì è un'ora che giravo qui. E c'hai i piedi? Forse ho sbagliato panchina. Hai capito? Mi era venuto in mente. Adesso metto le scarpe. le scarpe. Le scarpe sono carine queste guarda come sono fetish. Eh beh. Con questi lacetti così sono fantastiche. Eh dove le trovo un altro paio così mi sarebbe dispiaciuto. Beh queste infatti... Mi sarebbe dispiaciuto moltissimo. Ma loro vedi hanno fatto come fa la casa, no? Sai come fa la casa? Che ruba e non nasconde. No, nasconde ma non arruba. Ma non arruba. E loro me le hanno nascoste ma non le hanno rubate. Ebbè ma ci sono divertiti però, noretta. Ma questo glielo lasciamo fare perché sono troppo carini. Io li amo i fetticisti. Li voglio tanto bene. Ciao. Ah, mo te ne vai così? Certo, come sono queste scarpe? Ebbè. Grazie.